Cos'è l'asma severo? Quante persone sono colpite in Italia da questa patologia? Quali sono le diverse cause che possono portare appunto l'asma severo e come può essere trattato? Tra l'altro ci sono delle novità importanti in arrivo. Facciamo il punto su questo tema con un vero esperto, col professor Adriano Vaghi, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento incentrato proprio su questi temi. Professore vorrei chiedere innanzitutto una definizione di asma grave, che cos'è esattamente e poi quanti sono gli italiani colpiti da asma grave? Diciamo l'asma è una malattia spesso sottodiagnosticata e sottotrattata, in particolare questo si verifica per l'asma grave. Definiamo in termini operativi l'asma grave un'asma che comunque dopo un trattamento convenzionale con farmaci convenzionali che sono essenzialmente gli steroidi ad alte dosi, i broncodigaltatori a lunga durata d'azione che siano i LABA, quindi i derivati adrenergici e i derivati anticolinergici, gli antileucotrienici utilizzati in dose massimale e in un paziente che sappiamo che è estremamente compliante alla terapia, ma il grado quello va incontro a frequenti reacutizzazioni. Questa è una definizione operativa però diciamo estremamente utile per il medico di base e anche per lo stesso paziente. Quanti sono gli italiani che si trovano in questa situazione? Non tanto facile. Diciamo anche in questo caso vengono tra virgolette sottostimati e spesso si incontrano pazienti con cui si parla che hanno avuto più reacutizzazioni durante l'anno, ma il grado del trattamento, addirittura sono stati ospedalizzati o addirittura sono stati intubati, quindi sono finiti in rianimazione con degli episodi di near fatalasma che è molto più frequente ovviamente dell'asma fatale, quindi si calcola una stima di asma fatale in Italia intorno ai 300-400 casi, ma tantissimi pazienti rischiano tra virgolette la morte, sono ricoverati, vengono tra virgolette intubati o salvati nelle pneumologie. Perché? Perché non hanno fatto un trattamento adeguato alcuni e soprattutto perché non sono stati riconosciuti come affetti da asma grave. Sono pazienti che utilizzano oltre alla terapia convenzionale frequentemente altissime dosi di steroide per via orale e anche questo è causa di ulteriori morbidità, pensiamo all'osteoporosi, pensiamo al diabete eccetera eccetera, ma non sono consci di avere una patologia grave perché l'asma essendo una malattia nelle sue forme più lievi estremamente variabile, tutti noi conosciamo pazienti amici allergici che hanno delle asme così intercorrenti, molto lievi eccetera, la percezione comune dell'asma è che sia una malattia banale o comunque estremamente variabile. In realtà esistono, la percentuale può essere variabile dal 3 al 15 al 20% di tutti i soggetti asmatici che invece malgrado terapie massimali, malgrado l'uso degli steroidi hanno continue reacutizzazioni che a volte possono mettere in pericolo la loro vita e questa è praticamente l'asma grave e questo rappresenta attualmente un grave problema sociosanitario. Senta, la buona notizia è che negli ultimi anni la terapia dell'asma grave è molto migliorata, ci sono nuovi farmaci, qualcuno è arrivato appena adesso a disposizione del medico, soprattutto del paziente, riesce a darci un po' un quadro delle terapie disponibili appunto per chi soffre di asma grave? Certo, adesso abbiamo, contrariamente a qualche anno fa, delle veri e propri farmaci che funzionano nei confronti che possono risolvere il problema dei pazienti con asma grave, cosa che non succedeva fino a qualche anno fa quando il massimo della terapia era tutta la terapia convenzionale più alte dose di steroidi. Adesso gli studi, la ricerca praticamente ha riconosciuto che una certa percentuale che va dal 50 al 70% di questi soggetti e presenta un'infiammazione di tipo T2, per infiammazione di tipo T2 intendiamo un'infiammazione che è attivata da particolari cellule del sistema immunitario sia nato che acquisito, con la produzione di particolari citochine che creano uno stato infiammatorio costante nel soggetto. Il soggetto con asma di tipo T2 può avere una storia di allergia ma sicuramente al riscontro agli esami ematochimici presenta degli eosinofili aumentati e in più altri marcatori che possono essere molto utili come un elevato valore di ossido nitrico espirato. Allora noi in base ai valori degli osinofili nell'emocromo, in base alla storia clinica di atopia di allergia o meno, in base a questo marcatore che è l'ossido nitrico espirato, possiamo fare una diagnosi di asma di tipo T2 e in questi casi abbiamo dei farmaci veramente validi che sono i farmaci biologici, farmaci biologici che sono farmaci diretti come l'omalismo avverso le IgE che sappiamo sono i fattori, le IgE si fissano praticamente ai mastociti e in seguito a delle cellule particolari diciamo che sono delle piccole bombe biologiche, in seguito all'inalazione dell'allergene, l'allergene si fissa le IgE e fa scoppiare queste piccole cellule e di qui libera dei mediatori infiammatori e di qui la crisi di tipo asmatico. In altri casi invece, ad esempio nelle asme ad insorgenza più tardiva e spesso si verificano nel sesso femminile, spesso sono associate a poliposi nasale e ad altre manifestazioni sistemiche, la produzione di questi mediatori infiammatori è dovuto a un particolare danno dell'epitelio, premette bronchiale o anche di altri distretti dell'organismo che libera delle citochine particolari, il camono allarmine che a loro volta attivano queste cellule che sono dei linfociti, dell'immunità innata che liberano grosse quantità di interleuchina 5. E allora che farmaci usare in questi casi, professore? Allora in questi casi quando c'è una, diciamo, eosinofilia spiccata perché l'interleuchina 5 ha un effetto di stimolare la produzione e l'attivazione degli osinofili, possiamo usare dei farmaci che agiscono, dei farmaci biologici, che agiscono o bloccando l'interleuchina 5 circolante oppure che possono fissarsi al recettore dell'interleuchina 5 presenti sugli osinofili e determinare la morte degli osinofili. In questo caso l'infiammazione T2, che è un'infiammazione in gran parte sostenuta dagli osinofili, viene ad essere affievolita e viene ad essere controllata. In questo modo possono migliorare anche i sintomi del paziente. Oggi disponiamo anche di altri farmaci anticitochine che sono particolarmente attivi e particolarmente interessanti e che possono agire bloccando sia il recettore dell'interleuchina 4, che è quello estremamente importante per la sintesi del GE, sia il recettore dell'interleuchina 13, che è importante sia per il reclutamento degli osinofili nel tessuto e soprattutto per il rimodellamento infiammatore, per il cosiddetto rimodellamento bronchiare. E in particolare, questo farmaco ha un nome scientifico particolare che si chiama Dupilumab, può in questo senso essere indicato sia per i soggetti con ovviamente infiammazione di tipo T2, che presentano elevati livelli di osinofili, ma anche soggetti con moderati livelli di osinofili, proprio perché la sua azione è un'azione più complessa su una cascata infiammatoria praticamente governata dall'interleuchina 13 e dall'interleuchina 4. Il farmaco che agisce bloccando le GE circolanti è l'omalizumab. I farmaci che agiscono bloccando l'interleuchina 5 circolante è il mepolizumab. Il farmaco che tra virgolette si fissa all'eosinofilo, inducendone la morte, è praticamente il berralizumab. E quindi questi sono i farmaci del futuro. E devo dire che pazienti che fino a qualche anno fa non avevano grosse possibilità terapeutiche, se non un iperuso di premento e cortisone, adesso possono essere trattati riducendo al massimo il cortisone fino addirittura a sospendere. Quindi un netto miglioramento della qualità della vita del paziente, perché è un paziente che non riacutizza più. Ed è un paziente che non riacutizza più e riacquisisce una vita normale, è una qualità della vita normale senza l'utilizzo di un farmaco utile, ma sicuramente non scevro di effetti collaterali come il cortisone. E quindi si aprono effettivamente delle nuove prospettive, dei nuovi orizzonti per il trattamento dell'asma.